Musica Amarezza e sconcerto per una decisione troppo affrettata che rischia di penalizzare l'intero territorio. Così si è espressa con Fartigianato e Imprese Prato in seguita all'aggiudicazione definitiva della gara per il servizio di trasporto pubblico locale su gomma in tutta la Toscana ad Autolinea Toscana S.P.A., azienda del gruppo francese Rattepè. La decisione è stata presa con un decreto dalla Direzione Mobilità della Regione Toscana ed ha immediatamente scatenato polemiche e preoccupazioni. A ottobre è infatti fissata l'udienza del Consiglio di Stato motivo per cui Mobit, consorzio degli attuali gestori tra cui anche CAP e concorrenti nel bando di gara, aveva chiesto alla Regione di attendere il pronunciamento definitivo della giustizia amministrativa. La nostra posizione è di solidarietà e di grande amarezza e delusione per questa decisione che non ha una reale motivazione nell'urgenza. Noi siamo accanto al Presidente Gori che ha detto che forse la questione ancora non è conclusa, ma vogliamo esprimere questa amarezza perché CAP è un'azienda, come le nostre aziende che rappresentiamo, Confartigianato è un'associazione che rappresenta piccole e medie aziende del territorio, CAP in qualche maniera è un'eccellenza del territorio che fa un po' la storia della nostra città e vederla in questa situazione ci crea davvero tanto dispiacere e tanta amerezza. Lo sconcerto nasce un po' da due cose in particolare. La prima è quella che come aziende, come corpo lavoro del distretto pratese quando si vede un'azienda attaccata e che in qualche maniera è portata ad avere una grossa difficoltà comunque scatta una solidarietà fra aziende. L'altra, noi siamo tutte piccole e medie aziende, tutte condipendenti, molti dei quali usufruiscono dei mezzi di CAP. Per cui il servizio è sempre stato in qualche maniera aggiustato, vorrei dire, anche sulle esigenze delle aziende, di chi ci lavora. Ecco, questo sarà tutto messo in discussione perché i francesi, perché di loro si tratta, sicuramente non avranno quell'occhio attento al territorio come finora c'è stato. Un settore, quello delle gare d'appalto, che sta particolarmente a cuore a Confartigianato Imprese Prato, da sempre attenta affinché queste siano anche a portata delle piccole e medie imprese, fruibili cioè da tutte quelle realtà che operano sul territorio. Noi come Associazione Confartigianato siamo sempre stati molto attenti a quello che è il lavoro sulle gare d'appalto. Ci stiamo lavorando, abbiamo sempre dato la nostra disponibilità perché le gare d'appalto sono importantissime per un territorio. Noi sappiamo che il nostro tessuto del territorio è di piccole, micro, piccole aziende, per cui anche le gare devono in qualche maniera essere fruibili da parte delle aziende del territorio. Ecco perché chiediamo da tempo che non ci siano delle mega gare, degli appalti con cifre alle quali le nostre piccole aziende talvolta non riescono neppure ad aderire. Certamente in questo caso specifico non è stato così perché Mobit è un raggruppamento d'aziende che si erano in qualche maniera dotate dei mezzi per poter accedere e quindi ecco anche in questo caso abbiamo visto una miopia della politica e in qualche maniera ha voluto accelerare questa decisione non rendendosi forse conto fino in fondo del grave danno che a un territorio può essere portato. Grazie a tutti! Grazie a tutti!